Lombardi Energy Clean Tech Cluster Pubbliche amministrazioni coinvolte, associazioni di categoria e quattro istituti bancari. Il cluster opera in termini di mercato sulla produzione di energia da fonti fossili così come rinnovabili. Si occupa di efficienza energetica e smart grid, edilizia sostenibile e gestione e trattamento delle acque. Le aziende all'interno del cluster collaborano e cooperano grazie allo sviluppo di aree operative definite anche commissioni tematiche all'interno delle quali le aziende possono confrontarsi, conoscersi, accrescere il rapporto di fiducia che le lega e in questo modo presentarsi in maniera aggregata, quindi facendo rete sui mercati globali, un elemento di forza per accrescere la propria competitività. Nel corso di questi anni abbiamo sviluppato una serie di iniziative a favore delle aziende, progetti di ricerca e sviluppo per 5 milioni di euro e allo stesso tempo più di 200 iniziative tra workshop, organizzazione di B2B, missioni all'estero e anche a livello nazionale e internazionale. Siamo il primo cluster europeo italiano ad aver acquisito la Bronze Label e ora siamo in lizza per la Gold Label, segno e riconoscimento di qualità della cluster organization. Le aziende possono trovare un ambiente friendly all'interno del quale matcharsi, fare network, presentarsi in maniera aggregata a livello internazionale, quindi accrescere la propria visibilità e accrescere i propri elementi di competenza interna partecipando a progetti di ricerca e innovazione.